Benvenuti ragazzi, oggi parliamo della dinastia Giulio-Claudia, cioè quegli imperatori che si succedettero dopo la morte di Augusto e che regnarono dal 14 d.C. fino al 68 d.C., data della morte di Nerone. Questi imperatori che sono Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone appartengono alla dinastia Giulio-Claudia perché imparentati alla Gens Julia con Augusto, però con Tiberio che è il figlio della moglie di Augusto, Livia Drusilla, e Tiberio apparteneva alla Gens Claudia e quindi ecco che abbiamo la dinastia Giulio-Claudia. Allora durante questo periodo diciamo che finisce la collaborazione tra il potere politico e l'intelligenza letteraria che vi era stata durante l'età di Augusto. Sappiamo che durante l'età di Augusto la maggioranza degli intellettuali del tempo aveva appoggiato la politica di Augusto e ne aveva anche cantato le lodi grazie anche alla mediazione di Mecenate e del suo circolo al quale erano appartenuti molti intellettuali di quel periodo, molti grandi poeti come Virgilio, come Orazio per esempio, come Ovidio che comunque girava nella cerchia di Augusto e anche lo stesso Tito Livio, lo stesso storiografo Tito Livio. Ecco adesso anche a causa del fatto che questi imperatori attuano una politica dispotica e repressiva e vogliono controllare e condizionare l'attività intellettuale, gli intellettuali di questo periodo si mettono all'opposizione. L'attività letteraria diventa uno strumento di opposizione del potere politico e questa opposizione che si realizza nella filosofia stoica. Infatti il modello è Catone Luticenze. Catone è il modello di intellettuale e di filosofo stoico che si è suicidato ad Utica durante la guerra civile fra Cesare e Pompeo per non cadere nelle mani di Cesare. Quindi il filosofo stoico che ha riaffermato, suicidandosi, la sua libertà nei confronti del suo nemico politico e così faranno molti intellettuali di questo periodo. Pensiamo a Seneca, Petronio e Lucano che partecipano alla congiura di Pisone nel 65 d.C. contro Nerone e che scoperti preferiscono suicidarsi pur di non essere arrestati e condannati a morte dallo stesso Nerone. Allora abbiamo detto sono imperatori dispotici. Tiberio, il primo di questi imperatori che regna dal 14 al 37 d.C., diciamo nel primo periodo del suo regno segue una politica filosenatoria e quindi una politica di collaborazione, di equilibrio tra il potere dell'imperatore e quello del senato. C'è però la parte finale del suo principato quando Tiberio si ritira nella sua villa di Capri che è un periodo fortemente repressivo nei confronti degli oppositori veri o presunti, un periodo caratterizzato anche da condanne di intellettuali come Cremuzio Cordo ed Emilio Scauro. Questi due, allora, anche loro preferiscono alla fine suicidarsi pur di non essere arrestati dalle guardie di Tiberio. Cremuzio Cordo è colpevole di aver scritto un'opera storica in cui celebrava i cesaricidi, mentre Emilio Scauro aveva scritto una tragedia da Treus in cui, diciamo, dietro l'immagine del tiranno Atreo c'era proprio l'immagine di Tiberio. Poi con Calligola si continua, diciamo, in questa direzione perché addirittura Calligola attua forme di assolutismo ispirate ai regni orientali e reprime i suoi oppositori e anche sotto Calligola fioccano le condanne di intellettuali. Invece Claudio è più equilibrato, Claudio è lo zio di Calligola e attua una politica di equilibrio tra l'imperatore e il senato e quindi un'azione di governo moderata e positiva e sotto il regno di Claudio invece non esistono condanne di intellettuali. Tra l'altro questi primi tre imperatori sono imperatori che hanno personalmente degli interessi letterari, infatti pensiamo solo al fatto che Calligola era un appassionato di storia e aveva scritto delle opere storiografiche, quindi personalmente sono degli imperatori interessati alla letteratura, però non promuovono la cultura, forse per l'atteggiamento sospettoso che hanno nei confronti degli intellettuali. Mentre con Nerone diciamo che la musica un po' cambia nel senso che continua l'assolutismo dispotico, soprattutto dopo i cinque anni di Quinquennium Neronis, cioè dal 58 in poi Nerone assume un atteggiamento dispotico, reprime i suoi oppositori, fa uccidere la madre, lo stesso filosofo Seneca preferisce andarsene in esilio, però dobbiamo dire che Nerone è un appassionato di arte e di letteratura, soprattutto di poesia e lui stesso si cimenta a scrivere opere poetiche di lirica, di tragedia, di epica e addirittura aveva inaugurato i giochi Nerone, giochi in cui si svolgevano delle gare sportive e anche delle gare di poesia, di musica, di canto, di oratoria, a cui tra l'altro partecipava lo stesso imperatore con le sue opere, imperatore che declamava le sue opere e questo diciamo che era oggetto di scherno per i suoi oppositori politici. Comunque dobbiamo dire che in età neroniana c'è una notevole fioritura letteraria, forse anche perché l'imperatore è molto interessato alle lettere e alle arti e quindi come abbiamo già detto promuove la cultura. Infatti la maggioranza degli intellettuali di questo periodo vivono proprio sotto il regno di Nerone. Pensiamo a Seneca, pensiamo a Petronio, pensiamo a Lucano che fanno la fine che vi ho raccontato nella congiura dei Pisoni e poi anche lo stesso Persio che si occupa di Satira. Ecco, quindi grazie all'azione di promozione culturale di Nerone dobbiamo dire che le personalità più importanti di intellettuali vivono proprio sotto il suo regno. Allora, com'è il gusto di questo periodo? Intanto in questo periodo si emulano i classici, attenzione, non tanto i classici greci come era successo negli anni precedenti, quanto gli stessi classici latini perché durante l'età di Cesare, durante l'età di Augusto vi erano stati degli scrittori e dei poeti latini che avevano raggiunto delle vette elevatissime. Pensiamo a Cicerone per la prosa, pensiamo a Virgilio per la poesia o a un Orazio o a uno video e quindi gli intellettuali di questo periodo tendono a imitare e ad emulare questi classici. Purtroppo l'emulazione segue delle modalità manieristiche, quindi abbastanza ripetitive. Diciamo che in questo periodo si afferma soprattutto un gusto asiano, quindi magniloquente, enfatico e poi c'è un certo anche gusto barocco perché c'è il culto della simmetria, di tutto ciò che è strano, di tutto ciò che è straordinario, meraviglioso, che è fuori dalla norma che si unisce al gusto dell'orido e del macrabo. Pensiamo solo alla Farsalia di Ucano oppure alle tragedie di Seneca. Comunque queste cose le vedremo in seguito, per ora basta così.